Tissone che sta giocando praticamente nel ruolo lui più congeniale, eccolo, sta praticamente facendo il catalizzatore del gioco di centrocampo, Ciprova dalla distanza, gran gol! L'ho appena finito di dire, l'ho appena finito di dire, Fernando Tissone firma il suo primo gol nella sua migliore partita in rosso-blu, alla trentanovesimo minuto, e che gol ragazzi! Un gran destro con il pallone che si è insaccato sotto l'incrocio alla sinistra del portiere Spina, e dunque allo stadio San Ciro di Portici, il Taranto è in vantaggio, ha praticamente ribaltato il risultato, la formazione ionica, in 10 minuti, in 14 minuti, al venticinquesimo Sant'Arpia, al trentanovesimo il gran gol di Ferdinand.